Serve ancora una modifica al progetto per il palazzetto dello sport. Il comune di Sanremo ad avanzare un'istanza alla ditta Sicrea Group di Reggio Emilia, a giudicataria, incaricata a realizzare l'opera che verrà costruita a pian di poma. Il comune mattuziano, che ha dato in appalto i lavori e una volta che questi sono ultimati e consegnati, inizia poi a saldarli pagandoli a rate. La domanda del comune ha lo scopo di aumentare la profondità della piscina da competizione. Attualmente ne sono previste due dalla vasca comune, con livelli che variano da 1,35 a 1,75 metri di altezza. La giunta Sanremese però punta a uniformare l'intera superficie a 1,80 m per ampliare la possibilità di ospitare eventi di varie discipline, dai tuffi all'acqua gym. Una correzione che in ogni caso non autorizza la struttura di potersi accreditare per manifestazioni di carattere nazionale. Lunga 25 metri per 8 corsie, essa risulterà comunque simile a quella di San Martino. Il progetto definitivo ricordiamo che era stato approvato nel maggio dello scorso anno. Le modifiche alla profondità della vasca principale, secondo il calcolo fornito dall'ente locale della Sicrea, è di circa 93 mila euro. Poca cosa se commisurati alla montare dell'investimento dell'amministrazione comunale, che andrà a stanziare tra spese e interessi circa 16 milioni di euro. Il progetto dell'amministrazione comunale, che andrà a stanziare tra spese e interessi circa 16 milioni di euro. Grazie. Grazie.